Fondamentalmente l'idea è nata da un'esigenza di creare il famoso showroom traffic, oggi nella retail, nella concessionaria tradizionale, l'obiettivo è cercare di fare a sé arrivare persone nell'acquisto dell'automobile, sia in acquisto sia in forma di noleggio. Fondamentalmente è cambiato il mondo, oggi dobbiamo noi cercare di andare verso i clienti, nelle loro normali quotidianità, nella loro volontà di shopping che viene fatto in centri naturali di agglomerazione come i centri commerciali, che non hanno targetizzazione. Basta pensare che il centro commerciale, quello di Legru in Piemonte, che è un'iperregionale, registra 13 milioni di passaggi all'anno, un milione al mese, una cifra enorme. Un milione di persone al mese passa in quel centro e cerca di poter individuare, percepire quelle che sono le sue esigenze di acquisto, le più svariate. La nostra idea è nata da questo presupposto di andare verso il centro commerciale, essere presente lì e cercare di dare questo servizio innovativo non solo basato sulla vendita dell'automobile, ma anche di far vivere una nuova esquerienza della vettura, del prodotto in termini tecnologici, in termini di utilizzo e in termini di anche piacere in generale.